Incredibile, ho già il titolo per YouTube. Io e il team GioGio vinciamo una partita contro un cheater. Incredibile. Incredibile. Andiamo all'aeroporto, andiamo all'angara a fa' macelli. Dai, eh. Sono un bambini che esiste dall'80 e fa da spalla a CrossFit Crown dall'80. Lomba, c'hai la voce di un quarantenne, sei veramente mangiato ormai. Cioè, ormai sei perso. Eh, lo so, lo so, hai ragione. Ma andiamo, va. Sono un team sicuro. Vabbè, ma gli si ficca la clock in bocchi, fa capire chi comanda, cioè, non è che vuole. Qua c'ho sbagliato, ma... Sì? Non tanto, scendo qua sopra. Vado sul tetto verde, allora. Ce n'è un po' di gente in giro, eh, raga. State attenti perché è pieno. Al nord è pieno, raga. Assurdo. Ho fatto paura. Assurdo, per un'altra squadra. Traccato, mamma mia che traccata che gli ho dato. Piastre qua, eh. Top. Io ne ho altre due, se gli sarà una. Ah, ce l'ho io, no, cinque. Porca pui. No, raga, non ci credo. Ho. Lo sto coprendo, l'ho craccato. Quasi non scato. Non va, non cazzo non va. Io, tra l'altro, potrei pure andare con senso di tomba, in realtà, sai. Ce l'ho davanti, uno. Sono due. E' io. Fato una terra, fato una terra. Mi devo curare. Mi cura e vado con senso di tomba, vado. Hanno restato. Fatti due. Mamma mia che switch di target, mamma mia. Madonna, ma questi erano incazzatissimi, ragazzi. Mai quanto me. Allora, questi dove stanno andando? Non lo so, stanno scappando nell'infinito di oltre. Oh, l'ho visto? Verso campanile. Come campanile? Oddio no, di breve. Eh, proprio lui. Ecco. Guarda qua che c'è. Quella è buona. Cambio che arriva, eh? Ci buscirò. Non ho solo, non ho. Fatto, 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 fatto. C'è tiro. Ok, l'ho tirata tu. It's prima di piazza qua, eh? Questo pazzo. Capitato tutto a piazza, ragazzi. Questo pazzo. Prego tutti a bordo, gentiluomini. Ma come l'ha incastrato, West? Gentiluomini e gentil-bambini, comunque. Vabbè Lombardi tagli dai Senti ma ci vediamo bravo e va alla tarda C'hanno sparato 290 Vado avanti Aspetta Aspetta Ma questi com'è che cavolo stavano facendo Comunque chi gioca con la cappa di colore è un signore Ci tenevo dire questo Allora sento bene chiamarti gentiluomo Assolutamente Cioè sono una persona raffinata Lombardi Mangia lo zaffero col cucchiaino Eccolo Eccolo Caccato No E' qua dentro Sta da qualche parte camperato Mamma gianni quanto sta incazzato vola Mamma mia vola bro Ti sto dietro Si è buttato Sto nato io Dietro la puntiferoso No se ti amo veramente in testa E' un genio Ma Aspetta aspetta Oddio bravo bravissimo Mi stavo stesse correndo in casa non pensavo fosse licoricato come un Questo è matto comunque Grazie Ho sbagliato E comunque in qualsiasi caso sono stato outplayato Oh Io spero che mettano presto sui sei tipo la visuale che la computer sembra che vai giù tipo caraballo Il fob Sì Ma dovrebbero mettere C'è la PS5 Sì Sulla nuova mappa Oh Oh la la Oh La copia che spobbo Si sono fermati Noi siamo pazzi? Sì Tanto se piccano vanno per terra a leccare il pavimento Grande roba Guarda che sta leccando il pavimento RPG Sì Sì Da qua davanti a noi C'è uno più vicino C'è uno più vicino dietro la collina Fatto Dentro in casa dalla finestra No Via Travo L'ultimo in casa L'ultimo in casa L'ultimo in casa Eh vaffanculo a quella Sopra di me Con la RPG Gianni Trituralo Mamma mia Ma hai triturato Non mi sa Non so io Non è morto Si 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 Ma sei ammazzato con la RPG da sola ragà Non ci credo Mamma mia Eh io voglio paura Ho fatto paura Assolutamente Ti prendiamo fantasmino Oh si Oh si si Sì si si Fermo che se dici così Mi fai venire Men's star citizen Ma lo scelto Hanno fatto l'aggiornamento della madonna lomba Ma quanta droga ho venduto su quel gioco Ma no Tutti che giocano fanno role play E tu invece che vendiscono la droga E che ho Credo di essermi fatto un nemico lo sceriffo del gioco Non lo so E qui davanti pure No no E qua davanti a noi Guardalo Come vai Bob Manca uno che era sopra Non cato non cato Sul tetto non c'è nessuno Ma io ne ho fatto uno qua raga eh Sopra sopra? Allora lui Allora lui Buono Ha finito ma che ce ne siamo accorti Mi hanno garantito che sono un chinker raga Olè Oh oh Sopra rosso Sopra rosso Se volete scendete Si è buttato Non mi lo vuoi stare Non ha aperto il paracadote GG Gigi Cosa vengono qua davanti? Ativistation Hanno preso la cassa Si 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 scendi 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 Straccato? Scendi scendi Hittato tantissimo lomba Altro ancora qua da me Ehm mi sa che è ceca Gio si mi sa che c'entra già lo posso fare io questo lo posso fare io con la gas per forza dovete distrarmi lo provo godo ancora uno fatto godo godo città ma questo città ma questo città ma questo città guarda giorni ti insegna una cosa quando uno città guarda vai sul cadavere fai così e fai così e poi quando è finito fai anche così usciamo qui dire che vedi lasciami il posto porca ho detto boh siamo esplositi no sbagliato sbagliato eccoli ora li vedo no 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 piastro uno uno l'ho fatto ragazzi gente di quando un altro terra fatto manca l'ultimo ma si si era arrestato era lì si muove citato sempre scappando giù dalla montagna davanti a te a destra se puntato lo vedo mi nonno ho tolto la mia dove pinga ecco la traccato madonna johnny abbiamo johnny abbiamo fatto un double shot questo si è cagato in mano mi ha sparato le colpi insieme mamma mia mamma mi ha voluto il carico let's go riprendiamoci il senso oh alla destra alla destra fatto una terra merda merda craccato no ma t'ha finito che figlio di putt non solo pure craccato mentre lo finiva c'è manco si è spostato fatto uno guarda qualche pannone ne manca uno erano due già no questo è di un altro team credo non vedo l'altro prendiamo la macchina cosa quella la zona di airport quella brutta oh c'è chi nella sinistra della casa con quello che ci abbiamo pigato odio in quick scoop vengo vengo craccato si 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 mamma mia scusami qualche volta parte della casa nell'altro sto già busciando era sotto era sotto distrutto l'ho fatto l'ho fatto c'è un altro viene il bagno nel bagno di te ma guarda che schifo era nel bagno a capire forca puttana easy hanno preso la macchina arrivo qua davanti a noi dove vedi la macchina c'era uno che è morto però chi l'ha ucciso quello la quindi what ah da sopra da sopra da sopra da sopra da sopra da sopra no si è sdraiato quando ho sparato non ci credo ti butta sparcato ho smirato ce n'è un altro qua raga è morto è morto è morto l'hanno ammazzato bravo vai 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 te l'ho finito oh cazzato l'hanno noccato dove da destra da destra della casa della casa sono due craccato uno bravi sto a sinistra raga però c'è uno lì al ping che ho messo che ping non l'ho visto il ping già scusami la dietro ok lo vedo lo vedo lo vedo cecchino 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 da sopra raga merda fatto terra no merda sono più di uno fatto craccato l'altro ho craccato scusami merda la safe questo no ma sono quelli a destra il problema quelli nella casa bravo tiraglielo tiraglielo si quelli nella casa sono un bel problema non ma ancora sopra che mira fatto uno sopra e sopra che mira ancora eh lo so fatto no non ce l'avevo solo stavo aspetendo questo raga allora 10 persone soltante 10 persone soltante per questa zona dobbiamo o contestiamo la hangar si o non lo so ma 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 sono gli altri che mi sparano hanno ingaggiato il fight quelli la quello non va eh arrivo sull'alti da sinistra l'ultimo è mio di quickscoop l'ultimo è mio di quickscoop ve lo dico manca l'ultimo davvero si tiriamo uno qua atto per l'ultimo no vabbè staccato è mio è mio è mio è mio è mio è mio no guarda c'ho pure la posizione migliore no come extra si no dai jo ok lascialo lascialo restare lascialo restare 360 tira fuori il coltello ritira fuori il tundra BOOM che stronzo che stronzo che sei mamma mia che stronzo poverino bullizzate così ci sta è il karma verso quell'altro incredibile ho già il titolo per youtube io e il team jojo vinciamo una partita contro un cheater incredibile